Un grande saluto affettuoso a Gossip TV perché ormai senza gossip, ma che vogliamo fare? Da quando sono diventata mamma la mia priorità è diventato mio figlio, per cui a me lascio poco spazio, però preferisco spendere per delle cose belle che per delle cose da poco che poi alla fine lasciano il tempo che trovano. Spendevo molto più per me, anche in trattamenti estetici, adesso queste cose magari le faccio un po' più da sola e quindi posso dedicare più tempo, invece quello a cui non rinuncio sono i viaggi anche con mio figlio, anche i viaggi culturali con tutto che io ho un bambino di sei anni e mezzo, però siamo stati a Londra, a Parigi, viaggiare con lui è bellissimo, anche perché vedi come una piccola creatura riesce ad adeguarsi a nuovi spazi e a nuovi mondi, per cui sui viaggi io non lesino, non faccio viaggi russuosi naturalmente, però mi piace spendere per viaggiare. Io ho una tecnica per viaggiare con mio figlio, gli faccio vedere i cartoni della Walt Disney ambientati in quella particolare città. Prima di andare a Londra infatti abbiamo visto la carica del 101, Basil l'investiga topo, Peter Pan, ha potuto identificare il Big Ben, la storia della regina Vittoria, Buckingham Palace, Regent's Park, l'architettura londinese, la vita londinese. L'anno scorso invece quando sono andate a Parigi, abbiamo visto gli aristogatti, Ratatouille, La Belle e la Bestia, quello sicuramente, però La Belle e la Bestia è più un villaggio della Francia, ma va bene lo stesso.